L'emergenza coronavirus ha probabilmente cambiato anche le vostre modalità operative. In che modo? Aumentando i servizi, aumentando la struttura di trasporti ad esempio, ma soprattutto dando una comunicazione ai volontari sull'utilizzo di DPI e cercando di contenere quello che è stata la diffusione in maniera indiscriminata, ma soprattutto dando delle informazioni sbagliate alla popolazione su quello che è veramente il coronavirus, perché è una semplice influenza, ma è un po' più aggressiva delle altre, però i dati parlano chiaro che non è stata né di più né di meno di quella dell'anno scorso. Io porto sempre l'esempio che se questo fosse successo vent'anni fa avremmo vissuto tutta questa inserenità a questo momento. Il problema è proprio dato dai messaggi che sono passati in maniera distorta, anche perché se noi, dico sempre che purtroppo la comunicazione a volte ha veramente un ruolo importante, specialmente durante le emergenze, se si passano dei messaggi distorti, questo causa la psicosi, la psicosi poi provoca quello che ha provocato. L'utilizzo indiscriminato delle mascherine, basta pensare nei supermercati, quello che è successo, nel senso andare ad acquistare cibo come se dovessimo essere durante un periodo di guerra, assolutamente no. Perciò io dico che bisogna abbassare i toni, si sta a vivere una vita serena e poi se ci sia male si sta a casa, si fa passare l'influenza. Ecco naturalmente chi è che deve stare attenti? Le persone che hanno già delle patologie che possono, ma come tutte le influenze, causare delle problematiche. Quali sono gli scenari che vi prospettate nei prossimi giorni, comunque nelle prossime settimane? Ma per conto mio si abbasserà il livello, nel senso il livello d'allerta. Continueremo con l'attività che facciamo in aeroporto di rilevazione della temperatura, perché questo Ministero ce l'ha chiesto, ma penso che si tornerà nella normalità e questo speriamo veramente che già con i bambini che tornano a scuola lunedì possano essere, possa essere un messaggio importante questo.